Toscana e Francia sempre più vicine. Incontro tra il Presidente della Regione Toscana e il Ministro degli Esteri della Repubblica Francese a Palazzo Strozi Sacrati, sede della Regione. Un incontro nato per saldare ancora di più i rapporti tra Toscana e Francia. Nella Sala del Pegaso presenti le aziende toscane con interessi o partnership in Francia. In Toscana sono presenti 120 multinazionali francesi, le imprese francesi gerano 6 miliardi di fatturato con 13 mila dipendenti. Il Presidente della Regione Toscana ha sottolineato che la Francia è il primo Stato per l'export in Toscana, quindi è importante mantenere buoni rapporti con momenti di incontro e che solo all'interno di un'Europa unita dove c'è un unico mercato, scambi a relazioni e tutele sociali è possibile creare sviluppo e benessere. Soddisfazione per l'incontro anche da parte del Ministro degli Esteri francese. Una collaborazione, ha detto il Ministro, per uno sviluppo futuro non solo per le imprese ma anche per i posti di lavoro con uomini e donne che lavorano insieme per un ulteriore sviluppo comune.